Il deputato Claudio Cominardi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione, le ricordo che ha un minuto, prego. Grazie Presidente. Gestione costantemente in passivo con risultati economici annuali negativi compresi tra i 56-115 milioni di euro tra il 2002 e il 2015. 2,2 miliardi di euro di deficit patrimoniale. Parliamo del fondo di previdenza presso l'Inps, del clero secolare e dei ministri di culto delle diverse confessioni religiose. Chi paga questo disavanzo? Pantalone ovviamente. Quello che chiediamo è di sapere se tra la moltitudine di umili parroci beneficiari di questo fondo vi siano anche alti prelati con laute pensioni da noi tutti pagate. Come Cardinal Bertone, visto il suo tenore di vita e il suo attico di 700 metri recentemente ristrutturato attraverso dubbi e risorse economiche. Quindi sono qui a chiedere di che importi sono queste pensioni? Esistono pensionati d'oro anche in Vaticano alle spalle dei contribuenti? Grazie. Grazie collega Cominardi. Adesso il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie presidente. Grazie agli interroganti. L'atto, come ricordato, riguarda la situazione finanziaria del fondo di previdenza per il clero secolare per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Questo fondo è disciplinato dalla legge 903 del 73 e dall'articolo 42 della legge 488 del 99. Eroga esclusivamente queste prestazioni previdenziali, pensione di vecchiaia, di invalidità e ai supestiti. L'iscrizione al fondo è compatibile con l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i supestiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Tuttavia, le pensioni a carico del fondo non sono cumulabili nella misura di un terzo del loro importo con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e con quelle a carico dei fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi della stessa. Le somme non cumulabili sono trattenute a cura dell'INPS ed evolute al fondo stesso. Per quanto concerne la situazione economica finanziaria del fondo, il disavanzo economico origina dal differenziale strutturale tra le entrate contributive che ammontano, in riferimento al 2014, a circa 33 milioni di euro annui e prestazioni a carico della gestione che ammontano a 82 milioni di euro sempre per il 2014. Pur tenendo conto degli attuali squilibri del fondo, voglio sottolineare che eventuali interventi modificativi, che al momento non sono lo studio, devono in ogni caso essere valutati attentamente tenendo conto della peculiarità del fondo, nonché dell'importo dei trattamenti liquidati in favore dei soggetti iscritti. Per quanto concerne i dati richiesti relativi agli importi delle pensioni erogate, posso riferire, dalle informazioni che abbiamo acquisito all'INPS, che nel 2014 il fondo ha erogato 13.788 pensioni. Dall'altro lato, data la complessità e la specificità dei dati che sono stati qui ribaditi in termini di richiesta dagli onorevoli interroganti e per il tempo molto stretto che abbiamo avuto a disposizione per l'elaborazione degli stessi, mi riservo di fornire agli interroganti appena disponibile un quadro preciso e particolarizzato che possa consentire l'analisi puntuale e il maggiore approfondimento rispetto alle domande che qui ci sono state poste. Non sono attualmente allo studio elementi modificativi del fondo, a breve un'analisi dettagliata, detto il Ministro. Grazie Presidente. Non sono assolutamente soddisfatto della risposta, innanzitutto perché non abbiamo numeri esotivi, poi vedremo di che si tratta e le spiego inoltre il perché. Si stima che la Chiesa abbia un patrimonio immobiliare di mille miliardi di euro, oltre il 15% del valore totale degli immobili in Italia, 115.000 proprietà. Nel mondo può inoltre contare gli stessi ospedali, università e scuole degli Stati Uniti d'America. A queste si aggiungono le case di riposo, gli asili, i fabbricati, gli alberghi, le strutture di ospitalità dei turisti, le abitazioni in affitto e così via, per non parlare del potere finanziario rappresentato dalla femmigerata Banca Vaticana dell'OIOR. Riceve donazioni tramite l'otto per mille, i benefattori, le offerte dei fedeli e tramite le esenzioni che lo Stato fa alla Chiesa sulle tasse e in particolare sul Limo, quindi pagare anche le pensioni dei prelati da parte dei già tartassati contribuenti italiani mi sembra onestamente eccessivo. Soprattutto se si considerano che i tre quarti dei 14.000 pensionati in oggetto risultano essere titolari di almeno una seconda pensione. Non posso sentirmi rispondere dal Governo che non farà alcun intervento per togliere il contributo regalo dello Stato italiano. Sarebbe stato sufficiente incrementare il contributo di chi versa al fondo considerando che le prestazioni erogate superano di tre volte i contributi versati. Detto ciò non esiste proprio che soldi li debba tirare fuori sempre semplice cittadino. È indecente. Questo vale per il fondo clero 8 milioni di euro all'anno e vale per i cappellani militari che vanno in pensione anche dopo tre anni di servizio percependo fino a 4.000 euro al mese che ci costano 6 milioni e mezzo all'anno. Quando il Governo qualche anno fa decise di riequilibrare il sistema pensionistico ci ha impiegato pochissimo tempo a far votare l'infame riforma Fornero che noi abbiamo chiesto di abrogare in questo Parlamento per ben sette volte più di ogni altro gruppo politico. La gente è disperata. Abbiamo 4,2 milioni di persone in povertà assoluta in Italia. Dobbiamo tagliare i vitalizi dei politici, le pensioni d'oro e i privilegi di ogni genere come questo perché come diceva Gesù, e lo dico per i fedeli e sono convinto che Papa Francesco la pense nello stesso modo vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Grazie.